Ciao, bentornata e bentornata. Dopo che hai visto come configurare un computer, avrai ben capito che sarà giunto il momento di assemblarlo. Chiederai come si fa? Semplice. Hai stampato la tua configurazione seguendo le lezioni precedenti. Poi sei andato in un negozio che normalmente vende articoli informatici, hai quindi acquistato tutti i componenti e stai tornando a casa. Sul più bello, nel viaggio di ritorno, comincia, credo, a farsi sentire una sensazione di disturbo mentale su quel che hai fatto e quel che dovrai fare. O meglio, cominceranno ad apparire i primi dubbi. Cosa ho fatto? Avrò commesso un azzardo? Penserai di esserti lasciato trascinare da me? In sintesi, non saprai come muoverti. O meglio ancora, come assemblare il computer. Bene, Guter, non ci pensare, in quanto ti ho detto che pian piano avanzeremo nel percorso didattico, che ci assembliamo i computer da soli. Quindi, questo sarà il tuo prossimo passo. Ci vorrà un po' di tempo, un po' di pazienza, un po' di errori che commetterai, tutto sommato, fa parte del gioco, ma alla fine tu assemblerai il tuo computer con le tue mani. Devo però soltanto avvisarti che questa parte del percorso, per ovvie ragioni, sarà ricca di informazioni e quindi relativamente lunga, perché dovrò spiegarti una serie di procedure che, se tu seguirai la lettera o anche con una certa apertura mentale, ti permetterà davvero di riuscire a dar vita alla tua creatura. Ok, ma come si comincia? Per prima cosa, dobbiamo controllare la lista della spesa. Cosa hai acquistato seguendo il configuratore? Come minimo il case, quindi la custodia del computer. Avrai acquistato l'alimentatore interno che permetterà di alimentare tutte le periferiche interne che andranno quindi installate sulla scheda madre. Una ventola ausiliaria, se non viene fornita insieme alla scheda madre, il processore, che sarà quindi il cervello del sistema, con allegato il dissipatore, ma ti sarà necessaria anche una pasta termica per poter collegare il dissipatore al processore. Poi avrai acquistato anche la RAM, quindi la memoria. Continuando, la scheda grafica, se eventualmente hai deciso di acquistarla, anche se magari fosse presente già integrata nella scheda madre. Il disco rigido, nel quale memorizzerai tutti i tuoi dati e soprattutto il sistema operativo, un lettore masterizzatore DVD, la tastiera ed il mouse naturalmente, che saranno le interfacce tra te e il computer, le casse acustiche, se vorrai ascoltare i suoni messi dalla scheda audio, il monitor ovviamente per poter vedere ciò che combina il computer. Infine, il sistema operativo, se già non lo possiedi. Diciamo che questo è il minimo indispensabile per poter poi allestire un computer completo. Tutto sommato, però, potrai anche acquistare in seguito un model router che ti permetterà di collegarti ad internet. Avrai acquistato o forse acquisterai una stampante, un'eventuale scheda audio aggiuntiva, se vuoi migliorare le prestazioni audio del tuo computer, una scheda FireWire, se vorrai interfacciare il computer ad altre preferiche, tipo videocamera, fotocamere, eccetera. Cuffi e microfono, se avrai la necessità di vederti in videoconferenza o chattare con qualcuno all'altro capo del mondo. Infine acquisterai un gruppo di continuità per essere più completo e svincolarti da eventuali blackout e quindi anche una ciabatta di collegamento per tutte le varie periferiche. Diciamo che principalmente nel luogo in cui dovrai assemblare il tuo computer devi farti un bel po' di spazio per lavorare, perché dovrai lavorare con comodità e sicurezza per evitare di farti del male oppure causare danni ai vari componenti. Quindi ampio spazio. Gli strumenti propri per l'assemblaggio saranno un paio di cacciavite, magari uno a croce ed uno ad intaglio di dimensioni medie, una pinzetta per poter afferrare meglio i vari componenti, spinotte di piccole dimensioni e poi, non spaventarti, un tappetino e braccialetto antistatico. Potresti non aver compreso cosa intendo dire con braccialetto e tappetino antistatico. Bene, per questo non ti devi assolutamente preoccupare. In realtà ti darò una spiegazione di quel che significa possedere un braccialetto e un tappetino antistatico e ti spiegherò poi un artificio, un piccolo trucco per poter evitare di acquistare questi strumenti. Devi sapere che alcuni componenti elettronici sono sensibili alle cariche elettrostatiche o, peggio ancora, le cariche elettrostatiche, se vengono in contatto con questi componenti, li danneggiano irrimediabilmente. Tali scariche probabilmente le avrai senz'altro provate nel corso della tua vita. Magari non saprei che si chiamassero così. In realtà hai mai preso una scossa toccando una macchina o sfiorando qualcosa o qualcuno? Se magari indossi abiti sintetici e tra l'altro fuori tira anche un bel po' di vento, sicuramente l'avrai presa. Bene, quello shock, quella scintilla, in realtà è una corrente che se riversata su questi componenti elettronici sensibili a tali cariche distruggono gli stessi in maniera irreversibile. L'effetto che vedrai ovviamente non sarà quello che prendono fuoco, evaporano, bruciano e cose del genere, ma semplicemente subiranno l'azione passiva di questa corrente che danneggerà i circuiti interni e quindi non funzioneranno mai più. Il loro successivo alloggiamento, la loro ubicazione sarà, nella migliore ipotesi, una discarica dedicata per i fiuti elettronici, se tiene all'ambiente, se no chissà. Quindi alcuni componenti elettronici del computer, in particolar modo la scheda madre che è quella più esposta, sono proprio i più sensibili a subire tali conseguenze, tali eventi. Anche se vedrai da molte persone manovrare con una certa superficialità, con una certa leggerezza la scheda madre o comunque certi componenti elettronici a mani nude e quindi senza precauzioni, tu già sai ovviamente che cosa può accadere, si corre il rischio di danneggiarli in maniera definitiva. Cosa dovrai fare tu quindi? Se pensi di fornire in seguito anche un servizio di assemblaggio o assistenza di riparazione per pc, allora dovrai acquistare un bel kit completo, antistatico, che comprende un tappeto da ubicare sotto i tuoi piedi, un tappetino più piccolo da stendere sul tuo banco di lavoro, sulla tua schivania, dove assemblerai o disassemblerai dei computer, un braccialetto antistatico, una base per l'aggancio dei vari pezzi del kit e quindi un cavetto che ti permetterà di collegare il tuo braccialetto alla base di aggancio. Quest'ultima poi dovrà essere collegata ad un punto di terra del tuo banco di lavoro, della tua schivania. Questo è un kit molto professionale, quindi specifico per certi laboratori. E noi cosa facciamo? Bene, nel nostro caso sostanzialmente non è necessario attingere a così tanta professionalità, anche se ovviamente sarebbe la migliore soluzione. Tutto sommato possiamo realizzarci un kit molto grezzo, ma abbastanza efficiente. Ti devi procurare un filo elettrico abbastanza lungo, diciamo di qualche metro, tipo quelli che si usano negli impianti elettrici di casa. Prendi questo filo, spellani circa un 10-15 cm ad ogni estremità, ossia togli la plastica di protezione. Una delle due estremità le attorcigli intorno al tuo polso in modo da formare un braccialetto, anche se un pochino grezzo. Il resto, quindi l'altra parte, la colleghi alla tua banca, alla tua schivania, al tuo punto di terra però del banco e della schivania. In alternativa, se non hai un punto di terra molto vicino, un termosifone va più che bene. Così facendo non farai altro che scaricare eventuali cariche elettrostatiche presenti sul tuo corpo, sui tuoi vestiti, a terra, grazie a questo piccolo circuito salva componenti. Anche se questa tecnica, come dicevo prima, è un po' grezza e può far abbrividire i professionisti del campo, è sempre meglio averla piuttosto che maneggiare in maniera impropria tali componenti, a maggior ragione se siamo inesperti e non sai dove toccare questi componenti. Bene Carlo, mi dirai, ma a questo punto, quando cominciamo? Perfetto. Iniziamo sostanzialmente ad aprire tutte le scatole, una per volta, curando però di non distruggerle. Perché? Perché molti negozianti, per dar vita alla garanzia, per rendere valida alla garanzia, non solo ti necessitano di presentare lo scontino, ma anche consegnare il componente all'interno della scatola integra, per filtrare un pochino le garanzie, se vogliamo dire. Per cui riguarda lo scontino, diciamo che la carta non ha una durata all'incirca di due anni per tutta la durata della garanzia, quindi ti conviene effettuare anche una fotocopia dello scontino stesso. Dopo di questo, all'interno della scatola dovrai verificare la presenza di alcuni dischi driver dove previsto. In particolar modo, questi driver li dovrai trovare sostanzialmente per la scheda madre e per la scheda grafica se l'hai acquistata separata dalla scheda madre. Per gli altri componenti sostanzialmente non sono fondamentali i dischi dei driver, in quanto il sistema operativo durante la fase di installazione caricherà automaticamente quasi tutti i driver. Laddove, nella ipotesi remota dovessero mancarti, sarà comunque possibile accedere agli stessi tramite i siti dei produttori. Nella scatola del case dovrai trovare dall'altro anche delle viti, dei distanziatori di plastica, qualche aletta di metallo oppure altri cavetti e fili che potranno essere utilizzabili se il case presenta qualche interfaccia di accesso opzionale, ad esempio nella zona frontale. Nella scatola della scaramata invece dovresti trovare dei cavetti, spinotti e fili generici che ti serviranno per collegare le varie periferiche interne al pc. Troverai infatti ad esempio uno o più cavi SATA dati di color rosso sostanzialmente che ti serviranno per collegare i dischi rigidi e gli eventuali lettori alla scheda madre stessa. Ancora sempre altri cavi SATA, ma stavolta per cui riguarda l'alimentazione delle periferiche, per poter dar corrente alle stesse. Anche se c'è da dire che verosimilmente questi ultimi cavetti potrebbero non servirti in quanto di norma l'alimentatore che avrai acquistato presenterà tale interfaccia. Poi troverai un cavetto per collegare l'uscita audio del lettore o masterizzatore DVD alla scheda madre, al suo ingresso audio. Eventualmente la scheda madre presentasse anche un'interfaccia IDE, allora noterai anche all'interno della scatola, della scheda madre, un cavetto IDE per poter collegare l'interfaccia con questo standard. All'interno dello stesso ci saranno anche altri fili per collegare periferiche e schede interne. Infine potessi trovare verosimilmente una mascherina metallica che servirà di copertura per i connettori retro della stessa scheda madre. Ora che hai svuotato tutte le scatole, quindi riponi le stesse in una zona senza poterle danneggiare come dicevamo e posiziona tutti i componenti sulla scrivania in maniera abbastanza ordinata, pronti per essere assemblati. Assemblaggio che inizieremo dalla prossima lezione, quindi avremo modo di effettuare il duro lavoro, quello di montare il tuo computer. Ora come sempre un grande saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima.